rosa mattia ed alfonso erano proprio qui quando la colata di lava fredda cancellava le loro esistenze e lì dove oggi c'è una lapide una lapide voluta da un amico di famiglia un amante della montagna anche lui non c'è più lì c'era uno spazio verde e qualche mese prima il figlio gerardo si era sentito dire da papà delle cose che poi gli erano rimaste impresse che ancora oggi risuonano nella sua mente questi qui con queste ruspe prima o poi ci condannano a morte il pensiero il pensiero che mi viene oggi e che mio padre cinque mesi prima che succedeva la frana mi disse queste testuali parole era un sabato era agosto e stavamo prendendo il caffè fuori fuori cucina e c'era anche a farlo apposta mio zio che è morto pure lui e mio zio nell'olanda che veniva in vacanza qua e mentre ci prendevamo il caffè io vedevo quelle le ruspe che salivano sopra e mio padre disse questi prima o poi ci sotterrano a me questo mi è rimasto tutti i giorni non faccio che pensare a questo tutto oggi sono passate 16 anni mi rimbombono nel cuore è una cosa che non riesco a concepire questa cosa era il 4 marzo del 2005 la ribellione della natura costò la vita a tre persone quel giorno un pezzo di montagna si staccò dal versante nocirino dei monti lattari portando a valle alberi e fango distruggendo case ed immulando i coniugi matteo gambardella rosa califano ed il cognato alfonso cardamone a seguito di intense precipitazioni un importante fenomeno franoso avveniva in località rullo il reato di omicidio colposo plurimo fu il primo ad essere dichiarato prescritto stesso destino per il reato di frana o disastro colposo sentenza di non luogo a procedere nel processo sulla frana di montalbino a nociara inferiore a distanza di 15 anni i rappresentanti dei comitati familiari amici delle vittime si erano battuti per giungere almeno ad una sentenza di primo grado arrivando a chiedere alla procuria al tribunale un calendario di udienze da celebrare rapidamente per il dibattimento oggi 16 anni dopo resta il ricordo dal retrogusto doloroso molto molto doloroso tutt'oggi dopo 16 anni giustizia non è stata fatta se andiamo anche se ci sono le colpe che sono talmente tangibili che nel corso del primo grado di giudizio sono state proprio viste le colpe indelebili proprio per le persone che hanno causato questa frana e tutt'oggi questo ci fa capire che però la giustizia in Italia purtroppo non fa il proprio corso perché noi dobbiamo pensare che dopo tutto quello che è successo dopo che sono state requisite tutte le colpe e tutt'oggi è andato in prescrizione il processo questo è una cosa gravissima che ci lascia tutt'oggi con il cuore affranto e questo ci fa star male noi con tutta la famiglia che dopo 16 anni il pensiero va tutti i giorni su quello che è successo praticamente si pensi che vedere papà, la mamma, il zia di essere sotterrati vivi e non avere giustizia a me mi fa una rabbia dentro che non so fino a quando vivrò non si rimargenerà mai